Ieri mattina a Canelli è stato trovato cadavere un pensionato di 75 anni, è stato un pescatore a rinvenire il corpo senza vita nel laghetto Paschino in località San Giovanni, poco distante dalla casa di riposo Villa Cora. Potrebbe trattarsi di un suicidio, l'uomo originario di Canelli sofferente per un esaurimento nervoso, da un paio di mesi era ospite della casa di riposo, solitamente al mattino prendeva la bicicletta per una passeggiata sulla stradina di Campania che porta al laghetto. E sabato in prefettura è stata firmata una convenzione fra la Procura della Repubblica e i vertici della pubblica amministrazione per migliorare l'offerta dei servizi giudiziari alla cittadinanza. Per la firma, oltre al prefetto di Asti, dottoressa Paola Piccia Fuochi, hanno siglato il documento d'accordo la Presidente della provincia di Asti, onorevole Maria Teresa Armosino, il sindaco di Asti, Giorgio Galvagno ed il procuratore Capo della Repubblica, Giorgio Vitari. Sentiamo. Porte aperte per tutti, purtroppo ancora suona un po' sinistro perché le persone non amano frequentare i locali di ufficio giudiziario, in particolare della Procura della Repubblica, ma certo, se dovranno venire, ma anche non certo come imputati, ma come persone offese o come persone comunque che si aspettano qualcosa dall'ufficio giudiziario, troveranno nella Procura Repubblica di Asti la migliore accoglienza. Abbiamo organizzato un ufficio in relazione col pubblico che è proprio destinato a questo, cioè a dare le più esaurienti e tempestive e cortesi risposte su qualsiasi domanda che viene fatta da un cittadino che si rivolge all'ufficio giudiziario. E su sollecitazione della Presidenza della provincia vi concentrerete anche sulla tutela dei prodotti tipici con la collaborazione anche con l'Università? Sì, certo, perché i prodotti della provincia di Asti qualificano in realtà l'economia astigiana, sono un'importante risorsa per questa economia, è giusto che quindi l'ufficio giudiziario collabori alla tutela di queste risorse. E si è chiusa con successo la prima edizione della Fiera dei Vini della Luna di Marzo. Al Palazzo Enofila la partecipazione è stata numerosa, con apprezzabili presenze anche da fuori regione e dall'estero, in particolare dalla Germania. Organizzata dalla Camera di Commercio di Asti ed inserita nel circuito di Golosaria per l'intero weekend, la fiera ha offerto in degustazione ed in vendita oltre 400 vini docche di OCG del Piemonte, accompagnati dai prodotti delle eccellenze astigiane di Asti Fagol. Il pubblico, ha sottolineato il Presidente della Camera di Commercio Mario Sacco, ha apprezzato il fascino della sede e l'allestimento dei saloni. È piaciuta la dimensione familiare della fiera, il contatto diretto con i produttori, la possibilità di degustare con calma vini e specialità artigianali e di conoscerne l'origine e i metodi di lavorazione. Con l'anteprima del Festival delle Sagre Invernali, tra venerdì sera e domenica a pranzo, le 12 proloco hanno servito complessivamente 7500 porzioni dei loro piatti tipici, che sono poi ulteriormente aumentate la sera del sabato, quando si è registrata un'affluenza eccezionale, creando anche una lista di attesa, poi comunque soddisfatta tutta anche ieri a pranzo. Visto il bilancio positivo, la Camera di Commercio di Asti ha deciso che la fiera dei vini della Luna di marzo diventerà un appuntamento annuale. E con questo da Asti è tutto, grazie per l'attenzione, restituiamo la linea allo studio.